L'associazione consumatori Robin Hood di Teramo torna prepotentemente sulla sicurezza dell'acqua distribuita nel territorio teramano. Dito puntato contro i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso che già nel 2003 provocarono uno sversamento di sostanze tossiche nel pozzetto di drenaggio, veleni che poi finirono nella rete dell'acqua potabile dove il ruzzo captava. Nonostante la messa in sicurezza di allora il fenomeno si è ripetuto dopo 13 anni e questo crea preoccupazione e fa porre qualche domanda. La vostra associazione non è tanto sicura, non è più sicura dell'acqua che si beve a Teramo per lo sversamento, è una storia che comincia un po' da lontano dal 2003. Sì, no, siamo diciamo sicuri perché pensiamo che la ruzzo ci garantisca questo e quindi siamo tranquilli che la ruzzo garantisca acqua sicura. Non siamo sicuri dei laboratori e del sistema dei laboratori che garantisce il sistema dell'acquedotto del ruzzo. Sì, abbiamo purtroppo un precedente, su questo precedente sono stati spesi i denari pubblici per mettere in sicurezza, ci avevano l'assicurato, però punto è a capo. Ci ritroviamo oggi con la stessa realtà, quindi vorremmo avere assicurazioni maggiori per quanto riguarda il futuro. Cosa chiedete? Quindi in buona sostanza noi chiediamo, intanto che l'Istituto Nazionale di Fisico Nucleare si faccia carico degli eventuali costi superiori per quanto riguarda gli utenti e soprattutto diventi un po' più trasparenti per quanto riguarda la messa in sicurezza e a tal proposito noi chiederemo a magistratura di indagare. La ruzzo ha infatti spiegato che il proprio sistema di controllo bloccò immediatamente a settembre scorso l'immissione dell'acqua contaminata nel circuito dell'acquedotto e che dopo quell'episodio nessun problema è stato successivamente riscontrato.